Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video su Dragon Ball Legends Quest'oggi andiamo insieme, ancora una volta, chi l'avrebbe mai detto eh A giocare con Goku Ultraistinto, ma attenzione perché lo andiamo a provare a differenza dello scorso video All'interno del God Ki Come potete vedere abbiamo in questo team Vegito Blu, Ciampa, Vados, Shallot Non abbiamo un colore rosso perché il God Ki ormai è risaputo, manca di quel colore Eh sì, può entrarci ovviamente in sostituzione, ovviamente Rosé, prima di tutto Quello sarebbe in realtà il colore principale, il rosso principale per God Ki Però secondo me è diventato datato, ma già da tempo è datato come personaggio Magari se ne stanno rendendo conto un po' di persone finalmente Per il resto ho deciso di optare per il buff di Zamasu e di utilizzare Shallot come colore bonus E cioè, magari, quando dobbiamo utilizzare il rosso per forza, utilizziamo Shallot Ma comunque Shallot, raga, fidatevi, lo utilizzerò tantissimo perché lo amo e fa dei buchi clamorosi Come li farà sicuramente Shamba, ma li farà anche Goku Ultraistinto nella sua versione Blaster Infatti, per il momento avete visto, se proprio vogliamo dirla tutta In Universo Preval Saga il Goku Ultraistinto, diciamo, Blaster Striker Qui vedrete la versione Blaster di Goku Ultraistinto Poi, se lasciate tantissimi like, se arriviamo almeno a 2500 Vi porto la versione Striker in Saiyan che in realtà avete già mezzo visto Però io ho rivisto un pochino gli equip, insomma, poi vedrete E io ho rivisto anche un attimino il team rispetto a quello dell'altra volta Detto questo ragazzi, io direi di iniziare subito con la prima PvP Vai, prima partita son carichissimo ragazzi, non avete idea Eh, ho già sbagliato infatti, avete visto come son carico? Ok Non droppa la combo, incredibile Non la droppi... mi ci butto, insomma Ok Ah, no, pensavo di averlo acchiappato, caspita Allora, ecco, per l'appunto, per l'appunto Subito Sciallotto, perfetto Allora, vediamo un attimo se mi fai... sì, certo che lo fai È già uno È bello che è andato, insomma Poi Vediamo se riusciamo a far andare via pure il secondo In teoria sì, mi sa che se n'è bello che è andato pure quasi il secondo in realtà Allora, mi sta pescando un bordello di strike Guardate sciampa che danni che fa, raga, ma di strike? Ma com'è possibile sta roba? Cioè, non... quasi non ha senso se ci pensate Vabbè Ultimate tozza subito Mi sta pescando un bordello di strike però Questi sono Sciallotto e Copultra-Estinto probabilmente Che stanno a far bordello da questo punto di vista Altrimenti non ha senso, perché La vadoi La chicchia un po', eh Sta partita la chicchia un pochettino, va detto Ok Ok Vai, ciampone, vai Ok Adesso io mi la... ma che caccio sto facendo questo? Perché? Grande, ciampone Io non so voi, ma comunque sto notando dei danni allucinanti di Blaster, ragazzi Cioè, poco da dire Poco veramente da dire Comunque in questa versione ho deciso di portare Veggitone Blu Beccato, beccato, certo che beccato Dicevo, ho deciso di portarmi dietro Veggitone Blu Che comunque ho buildato Mezzo Blast, ok Ma più che altro in Bravissimo Copultra-Estinto Bravissimissimo, direi Oh, perché? Perché? Pensavo mi entrasse, onestamente Fermi un attimo Perché se riesco ad utilizzare questa verde Certo che la riesco ad utilizzare In realtà potevo pure non usarla Va detto, potevo pure non usarla assolutamente Allora, sì Io voglio usare pure questa specialozza Così ti comincia a far danno E poi... comunque dicevo Sì, gioco Veggito Blu all'interno di questo team Dovrei fare lo Zenkai di... Di Goku Blu, non c'è dubbio Però ragazzi, onestamente non me la sento troppo in questo momento Di andare a fare quello Zenkai Ecco, dopo aver speso tutte quelle Crono Crystals Veramente mi verrebbe a fare una cifra, insomma Charlotte, amico mio Tu stai facendo il tank della Madonna E vai, continua a tankare Cioè, io sto parlando in tanto gioco, eh Vabbè Ok... Ah... Pensavo di averla cheppato qua Ok, ok Blast Bravissimo, Goku Bravissimo Complimenti Vediamo un attimo quando... Cioè, se riesce a tenerla Sta botta Perché secondo me è... Farò un bel po' male Farò un bel po' maluccio Subito, subito, subito Ok Lo sapevo Lo sapevo troppo Sti gran caspiti La partita è praticamente finita È praticamente finita la partita Che roba Che roba Purtroppo quello che gira peggio di tutti è Vegito Blu all'interno di questo team Poco da dire Però, ragazzi... Eh, vi ripeto Non... Non ci posso far nulla Attualmente Veramente Non me la sento Di spendere Cici Per fare uno Zenkai 7 Poco da dire Altrimenti con Goku Blu, ragazzi Sto team Mamma mia Non avete idea Cioè, se avete la possibilità Fate Ok Questo mi sento che sarà un match molto difficile Perciò Veramente Massima concentrazione Qui Massima Massima Concentrazione Ok Due E tre Va bene Ok Ah, io direi di giocarmi subito Shallot Dai Andiamo subito con Shallot Così Perché abbiamo già la trasformazione Infatti Mentre lo trasformiamo Subito una bella Kamehameha Bobobom Ok Ottimo così Droppettino della combo Ah, Goku il tristinto era Va bene Subito Perfetto Dai c'è un po' netini, eh Tieni mi raccomando, bro Due Tre Ok 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 Pazzoide Complimenti Va bene, va bene, va bene, va bene Vediamo Mamma mia Bellissima sta partita Bellissima Ok Allora Fermi un attimo Ok, 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 ok Devo tenere immediatamente Bravo Kukul Estinto Devo tenermi A sicuro Ciampa Ok Evitato Ok Ok Ciapato Sì A sto giro ciapato noi Finalmente Oh, senti Vai A post Ora Famo così Famo così E mo scom E mo te fai male E mo te fai male Ah No, Ciampa Ciampaide Cosa mi combini Ciampaide Cosa mi combini Allora Ok 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 Subito Vai Ok Beccato Posto Sì E che Ce l'aveva ancora Com'è possibile Sta roba Oh No, no, no Evitato 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 Tutta la vita Evitato Evitato Tutta la vita Com'era possibile Che ce l'aveva ancora Quel coso Non ci credo Vabbè Eh Amico mio Amico mio Che partita Nobbissima Non ci credo Da non far vedere A chi sta imparando A giocare A Legends Oh Dio Vai Proviamo Quest'altra Cosa Cosa Vecito Che dice Jiren No, no Spettacolare Aspettate Che è sto spettacolo Perdonatemi Ok Sfruttiamo Queste strike Che non ci servono A niente Ok Ok A posto C'ha l'8 Ora Lui sicuramente C'ha la verde Ovunque c'aveva qualcosa Due Non ci ha pato Purtroppo Non ci ha pato Manco Mancaia La miseria Timing Maledetti Potevo usare Il vanish Di Goku Però qui Oh Dispo Vediamo un attimo Subito Subito Dispone Basta Concentrazione Ok Aha Ok 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 Ci ho provato Ci ho provato Assolutamente Ok Bell'inizio Partita Bello Bello Wow Devo fare un maxi Recupero A dir poco Aha Ok Let's go Verdugno Lo sapevo Lo sapevo Ok 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione Grazie per la visione! Buonissimo, buono veramente Perfetto, ciapato Vai, fammo pure così In teoria se siamo fortunati lo riusciamo a... Non so come mettesse il giro Ottimo! Ottimo così! Ottimo! Bellissimi! Siete bellissimi tutti! Paurosi! Ma che sta a fare questa? Ah, peccato Ho sbagliato io Ho sbagliato io qui Ho sbagliato io Ok Subito Perché fai questa cosa? Ok Perfetto Ora Subito Ultimate Ok Fermi Beccato Vai Chiusa Dovrebbe essere totalmente chiusa A meno che se un giro non resiste Ma Impossibile Ok Ok Grazie a tutti.